Ora vi spiego come fare la cremina perfetta per la carbonara. Iniziamo! Per una corretta consistenza di crema andiamo a mettere adesso due tuorli d'uovo e 50 grammi di pecorino romano grattugiato. Mettiamo la pancetta affumicata in padella e ne ricaviamo il grasso che ci servirà per la crema. Adesso aggiungiamo un pochino di pepe nero e andiamo a mettere la bagnomaria sopra l'acqua dove andare a bollire la pasta.